Musica Ho fermata la cena per stasera Mi sono dimenticata la cena Spezzatino di pino pronto in tre minuti Ragazzi per questa sera tutto a posto, ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone Ma hai cucinato tutta la mattina? Tre minuti, ci ha messo solo tre minuti Giovanni Coppiello, il piacere del gusto Grazie per la visione Gentili telespettatori di prima, frie di internet Ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera Che ha l'importante compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia Faccio una premessa molto importante Il buono e il cattivo c'è dappertutto A destra, a sinistra, a centro, sopra, sotto Però a me dà fastidio un principio Che i signorini della sinistra portano avanti da anni Mi riferisco al concetto della moralità Da sempre loro si ritengono i più puliti I più puri E io da anni dico sono balle Le rivendicazioni dei compagnucci di sinistra Adesso faccio vedere un personaggio importante Lo confesso Mi sono sempre ispirato Da giovanissimo A Giorgio Almirante Responsabile del Movimento Sociale Italiano Persona integerrima Lo confesso E' stato sempre il mio punto principale di riferimento Onestà Educazione Saggezza Principi morali Coraggio In quei tempi difficili Ha avuto il coraggio Di portare avanti le sue idee Di dare legittimità Ai nostri principi La sua coerenza Cui non è venuto mai meno Un personaggio di altri tempi Come lo confesso Lo è stato Enrico Berlinguer Per i veri comunisti di una volta Qui non si capisce più niente Qui vale solo il Dio Denaro E' proprio vero Che pecunia Non olet Il denaro non sporca E allora omaggio A Giorgio Almirante Si sta rivoltando nella tomba Nel vedere Questa situazione Cancrenosa Dai regia Dio Patria Famiglia La destra Che parla al cuore della gente La destra Dei valori morali A seguire Colossale tangentopoli europea Della sinistra Fiumi di soldi Dal Qatar E Marocco Ad una grossa banda Comunista Internazionale Internazionale La sinistra Corrotta In pari Dalla destra Ad essere onesta Ecco perché ho esordito oggi con questo argomento Ecco perché mi sono riferito A quelle false notizie Alla Superiorità Morale Della sinistra Non è niente vero Quello che è successo nei giorni scorsi in Europa Lo sta a dimostrare Milioni di euro Mazzette Corruzione Credetemi Se dipendesse da me Io questi personaggi Ve lo giuro Davanti a Dio Li farei marcire in galera Perché è inammissibile Che Non si accontentano mai Oltre Ai lauti compensi Che prendono Vanno alla ricerca ancora di Trafficare E' implicato un ex Pidino Addirittura La moglie e la figlia sono agli arresti domiciliari Vacanze faraoniche Per forza quando non sai Chi paga E ti pagano gli altri Ecco io Per questo a volte mi arrabbio Con questa politica Becera Ottusa Della sinistra Impongono Il pagamento di un caffè col post Guai 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 Non si può pagare in contanti Stanno facendo La lotta Al contante E sapete perché? Perché loro Vogliono I soldi in contanti Con le mazzette Con la corruzione Hanno scoperto In casa della vicepresidente Una signora Una bella Una bella donna Dai Una bella donna Greca Vicepresidente Presidente dell'Unione Europea Aveva soldi dappertutto Non sapeva più dove metterli Aveva chiamato in soccorso Perfino il padre La damigella greca Che era Andato con un trolley Non sto scherzando Vi giuro Gli inquirenti hanno sorpreso Il padre di questa Ragazza Con un trolley Pieni di euro Lei convive con un altro esponente Particolare italiano Vedete La mentalità Sono falsi Io non generalizzo Perché anche Attenzione A sinistra C'è brava gente Io colpisco Il criterio Il fatto che loro Ti danno Ti impartiscono Lezioni di moralità Sono i migliori Sono i più onesti Non è niente vero Quando si tratta di rubare La perdi l'onestà Vergognatevi Mi fermo una manciata di secondi E dopo vado a chiudere Ancora con un esempio Che vi fa capire Che noi stiamo andando Verso il baratro La nostra Come dico io da tempo È una società Ormai alla deriva Non abbiamo più I famosi valori Di riferimento Di Giorgio Almirante È una giungla Credetemi la società Vanno avanti I più raccomandati Quelli che riescono Quei lestofanti Che riescono a trafficare La meritocrazia È diventato Optional Chi ha più santi In paradiso Chi ha più protettori Chi ha più ganci Va avanti Ed è normale Tutto questo Ecco perché io mi lamento Un giorno sì E un giorno anche A fra qualche secondo Vuoi migliorare L'efficienza termoacustica Del foro finestra E ridurre il tempo Di posa in opera Del tuo serramento Repac Azienda leader Con ventennale esperienza Nella lavorazione Dell'EPS Ha brevettato Shutterbox L'innovativo sistema Monoblocco termoacustico Con Shutterbox Repac Garantisce la soluzione A tutti i problemi Di posa Ed isolamento termico E acustico Del vano serramento Repac La risposta qualificata Per serramentisti E professionisti Contattaci Abbiamo la risposta Su misura per te Repac E a Campodarsego Padova www.repac.it Mete e obiettivi La tua guida È una voce Che riecheggia Dentro di te Tutto è possibile Il progetto Di una nuova casa O la sua ristrutturazione A volte Sembra impossibile A volte Spaventa Noi di Callegaro Costruzioni Capiamo le tue necessità E le tue aspettative E prenderai con nostro aiuto Le decisioni migliori Renderemo il cantiere E le nostre lavorazioni Di ultima generazione Un'esperienza unica Insomma Non sarai mai solo Callegaro Costruzioni Una mano all'ambiente Una al sogno Di una vita Lega nazionale Per la difesa del cane Perché gli animali Hanno un cuore Vieni al Parco Zoofilo San Francesco A Presina di Piazzola Sul Brenta Provincia di Padova Vieni Ed adotta Uno dei tuoi migliori amici A quattro zampe Aspettano impazienti Le tue coccole Parco Zoofilo San Francesco Più di 4.000 Adozioni in 10 anni Aperto tutti i giorni Festivi compresi Ricorda Parco Zoofilo San Francesco Via Borghetto 1 A Presina di Piazzola Sul Brenta Provincia di Padova Perché gli animali Hanno un cuore Ben ritrovati Gentili Telespettatori Di Prima Free E di Internet Volevo Suggerire Ai compagnucci Della sinistra E non solo Volevo suggerire A quelli che Oggi come oggi Compongono La cosiddetta Opposizione Si lamentano Che il governo Della Giorgia Meloni Nell'ultimo provvedimento Nell'ultima Manovra Non ha aumentato Come doveva Le pensioni Minime Allora io Correttamente Obiettivamente Serenamente Serenamente Senza Incazzarmi Perché mi dovrei Incazzare Di brutto Ma non lo faccio Perché voglio che il mio Messaggio Giunga A destinazione Egregi Signori Componenti Dell'opposizione E in particolare Egregi Amici Della sinistra Ma dove Caspita Eravate voi Negli ultimi Vent'anni Chi ha governato Enzo Spatalino Lameloni Siete stati voi Al governo Allora perché Non avete Proceduto Ad aumentare Le pensioni Minime Vedete Perché io a volte Mi arrabbio Perché c'è Questa becera Strumentalizzazione Adesso che c'è Un governo Di centrodestra La sinistra Va all'attacco E si lamenta Perché non avete Aumentato Le pensioni Minime Ma tu Che sei di sinistra Dovresti avere Più a cuore I piccoli I deboli I meno protetti E perché non hai fatto L'aumento Delle pensioni Minime Vedete Uno dei tanti Casi Di strumentalizzazione Pregherei la regia Di offrire Qualche contributo Oggi ho parlato Troppo Io in genere Mi avvalgo Di locandine Di video Di contributi Vari Per far capire meglio Le mie Argomentazioni Dai regia Andiamo Andiamo A vedere Cosa prevede Il regolamento Delle Coop Le cooperative Rosse Dovete Saperlo Voi C'è l'avviso Della Coop Si informano Tutti coloro Che vogliono Diventare Soci Coop Che i 25 euro Della quota sociale Per l'ammissione A socio Possono essere versati Solo in contanti La procedura La procedura in uso Non consente Acquisizioni Con pagamenti Elettronici I compagni Pagano il caffè Con il post Ma per le tangenti Esigono Rigorosamente Il contante Avete capito L'andazzo Sono teorici Quando vogliono L'oro Però Devi andare Cash 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 Con tanti I sacchi Di soldi A rubare Vergognatevi Non mi avete mai Convinto Con le vostre Falsità E chiudo Facendo un po' Di pubblicità Alla nostra televisione In particolare Alle mie Rubriche Io oltre A questa L'opinione Di Enzo Spatalino Che va in onda Tutti i giorni Alle 20 e 30 Dal lunedì Al venerdì Conduco Un'altra Trasmissione Che si chiama La voce D'Italia Perché Copriamo Tutto il territorio Nazionale Sempre Dal lunedì Al venerdì Per il momento Dalle 19 Alle 20 In rigorosa Diretta Con ospiti In studio E con la partecipazione Del pubblico Che telefona In diretta Ricordatevi però Che per seguirci Dovete Annotare I canali I canali I canali magici 170 1 7 0 E 231 2 3 1 Del digitale Terrestre Per seguirci Se non ci trovate Subito Per favore Perdete Qualche minuto Per fare La risintonizzazione Automatica Dei canali E poi Per ultimo Mi rivolgo ai fedelissimi Iscrivetevi Se volete Ai miei canali Youtube E Telegram Spatalino TV Più siamo E più ci facciamo sentire Dai Anche per oggi Penso che possa bastare Grazie di cuore Per la vostra cortese Attenzione Nei nostri confronti Un grazie Ai miei sponsor E un grazie Per la parte tecnica Al nostro regista Giovanni Stoppa In cabina di regia Arrivederci Gommista Walter Dallabona In via Puotti 61 A Villanova Di Camposan Piero Padova Telefono 049 922 0443 Un artigiano Che da anni Dà un servizio Nel suo settore Dalla vettura Di piccola cilindrata Al camion All'autobus Al fuoristrada A mezzi agricoli E moto Aperto tutti i giorni Anche sabato pomeriggio Su richiesta Assetti Convergenza E bilanciatura Assistenza 24 ore Su 24 Gommista Walter Dallabona Via Puotti 61 Villanova Di Camposan Piero Padova Telefono 049 922 0443 Halle Thank you for your story